Le forme sinuose e accattivanti e le proporzioni sportive della nuova Mercedes-Benz classe CLA sono invece le protagoniste di un esclusivo party notturno del fuorisalone organizzato al Design Café della Triennale di Milano. Mercedes-Benz è impegnata nel settore del design perché noi pensiamo che scegliere un capo d'appigliamento così come un oggetto d'arredo o la propria automobile sia un po' come esprimere la propria personalità.